tutti, via! ma è giocata che oggi è facile e poi non vogliamo dire e poi la correnza è soppante tanto no, 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 no ma è giocato che la città è giocato che la città è giocato Grazie. Grazie. Dovete? E' voltare? E' voltare? E' voltare! Andiamo per questa vicenda! Non è piccolo che l'ha detto! Stavo dicendo che il gesto ha fatto un gesto molto significativo e noi staventavano perché i due passeggiatori non fanno niente! No, no, facciamo! Regala a noi! Bravo! 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 Maria! Maria voglio dire una cosa! Maria voglio dire una cosa! Che cazzo me ne faccio? Maria! Carmine, ma tu che ci fai stare qua? Ma tu stai andando in... BAM! Davide Siale, baffanculo! Questi sono i soldi delle serate! Questi sono i soldi delle serate! Guarda! Maria! 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 Posso dire una cosa? Allora, io sono venuta a sapere che Pirolo, Angelo è fidanzato! E' un rispetto! Calma Daniela, calma Daniela, calma! Calma Daniela, calma... Calma Daniela, calma! Inชante... Dai! Calma! Calma Daniela, calma! Si, qua là! Grazie a tutti.